Non scorderò mai le parole di mio nonno prima di morire. Cieni ferma questa cavolo di scala! Caro, ma quanto ci metti a tornare a casa? Scusami amore, è che sono inchiodato nel traffico. Dottore, sono preoccupato per l'operazione. Tia tranquillo, non ha nulla da temere, lei è in buone mani. Grazie dottore. Ehi Siri, cerca trapianto di cuore tutorial. Come mai sentite sempre freddo d'inverno? Perché siamo mezze maniche. Amore, per me sei come una panessa. Ovvero? Sei un incrocio tra un panda e una leonessa. E tu per me sei un incrocio tra un coyote e un leone. Cioè? Un coione. Cosa dice un asino che ha una sirena sulla schiena? I-oh, i-oh, i-oh. Ragazzi, tenetevi pronti perché interrogerò mercoledì. Uffa, perché sempre a me? Drago, ti sconfiggerò. Oh no, che noia. Anche oggi si mangia carne in scatola. Che canzone dei Queen cantano due funghi che hanno appena vinto una gara? We are the champignon. We are the champignon. Scusate, questa era proprio una freddi ora. Dimmi una parola che inizia con la lettera G. Domani. Cosa? Domani non inizia con la lettera G. E invece sì, domani è giovedì. Da quando mi hanno tagliata non mi sento più bella. Non è vero, sei perfetta. Mercoledì non mi riescono gli esercizi di matematica. Mi daresti una mano? Certo, eccola. Presto nasconditi, sta arrivando mio marito. Va bene. Avete visto una storia di amanti. Papà, ho visto due matti per strada. Come hai capito che erano matti? Uno di loro gettava fogli da 500 euro per terra. E l'altro? L'altro li raccoglieva e glieli restituiva. Hi, I am a snake. Cosa? Ciao, io sono un serpente. Wow, riesci a parlare sia in inglese che in italiano? Certo, non vedi che sono bilingue? Oh no, abbiamo fatto un incidente. Sì, è vero. Ma guardi l'aspetto positivo della vicenda. Siamo illesi e adesso ci siamo conosciuti. In effetti. Questo è un segno del destino. Forse io e lei ci innamoreremo, ci sposeremo e avremo tanti bei figli. Wow. Questo incontro è sicuramente la cosa più bella che ci sia capitata. Dobbiamo brindare. Tenga, beva questo vino. Ora beva lei. No, grazie. Come mai? Aspetto che arrivi la polizia stradale. È tardi, vai a dormire. No, mamma. Come mai non ci vuoi andare? Perché sono un maialetto. Ti aspetto in piazza. Non vedo l'ora di conoscerti dal vivo. Sono felice, ma come farò a riconoscerti tra tutte le persone? È semplice. Io sono alta un metro e sessanta e peso cinquanta chili. E io come farò a riconoscerti? È facile. Io sarò quello con il metro e la bilancia. Mamma, mi racconti una fiaba? Ok. C'era una volt. Ti piace così tanto quel vestito? Sì, caro. Tantissimo. Bene. Allora domani torniamo a guardarlo. Ma tu usi l'agenda? Sì. Wow, sei una tipa organizzata. Buon compleanno. E questo cos'è? È il tuo regalo. Perché batti sempre le mani? Per tenere lontane le tigri. Ma non ci sono tigri qui. Vedi che funziona? Maggior Domo, vuoi giocare a carte? Mi dispiace signore. Con i nobili come lei non gioco a carte. Perché? Perché lei è un barone. Sì. Sono giorni che parla poco. Forse sta pensando a un'altra donna. Ma se il sapone si sporca, con cosa lo lavo? Hai studiato geometria? Certo, prof. Ok. Allora fammi un rombo. Vroom. Vroom. Ti metto zero e vai al tuo posto. Non capisco come mai la prof mi abbia dato zero. Per forza. Lei ti ha chiesto un rombo. E tu ne hai fatti due. In una curva a sinistra, qual è la ruota che gira di meno? Ma è semplice. La ruota di scorta. Salve a tutti. Prima di iniziare il rito, vorrei fare una premessa. Ciao Franco, come stai? Bene, grazie. Tu invece come stai? Mi hanno detto che hai avuto un trauma cranico. Ciao Franco, come stai? Salve, vorrei un gelato. Certo. Abbiamo cioccolato, nocciola, fragola e limone. Ha la laringite? No, ho solo cioccolato, nocciola, fragola e limone. Qual è il comune siciliano dove si dicono più freddure? Ti prego, non lo dire. Gela! Scusi, mi potrebbe dire perché l'uomo che sta a quel tavolo ha un piatto di pasta il doppio più grande del mio? Guardi, non se la prenda. È solo un fatto di marketing. Quel signore è seduto davanti alla vetrina. Questa crema fa ringiovanire di 20 anni. Ok, la provo. Oh no! Cosa? Ho solo 16 anni. Sto scomparendo. Pof! No, maledetta crema! Per domani fatemi un tema a casa dal titolo Cosa vedo fuori dalla finestra. Hai fatto il tema? Certo prof, ecco qua. Come mai non hai scritto nulla? Perché le tapparelle erano abbassate. Ti consiglio di non fare il bagno con questo mare mosso. Onde evitare. Ciao Mario, come mai sei tornato prima dalla vacanza in campagna? Il primo giorno che ero là è deceduto il coniglio e quella sera la moglie del contadino ha cucinato il coniglio arrosto. Il secondo giorno è deceduta la mucca e la moglie del contadino ha cucinato carne di mucca. A quel punto il terzo giorno sono scappato. Perché? Perché è deceduto il nonno del contadino. Prof, in Inghilterra, nessuno sa come si chiama un uomo senza corpo e senza naso. Cosa? Perché? Perché nobody knows. Oggi ti vedo felice. Eh sì, ho capito che mia moglie mi ama proprio tanto. Cosa te l'ha fatto pensare? L'altro giorno sono rimasto a casa letto per l'influenza e durante la mattinata hanno suonato il campanello tantissime persone. Il vicino, il postino, l'idraulico e tanti altri. Pensa che mia moglie era così contenta che io fossi a casa con lei che ogni volta che suonavano iniziava a urlare Mio marito è in casa! Mio marito è in casa! Dimmi due pronomi. Chi? Io? Bravo! Finalmente te lo posso dire. Ho realizzato le uova di Pasqua. Sono buonissime e hanno sorprese da ridere. Le uova! Ecco cosa stavi covando! Pronto polizia? Sì, mi dica. Sono la signora Rossi. Vorrei ritirare la denuncia riguardo la scomparsa di mio marito. Ah, che bello! Allora l'ha ritrovato. No, è che ci ho riflettuto. Chi ha fatto fuori Kenny? Mr. Rain oppure Mengoni? Di la verità Marco, sei tu il colpevole. Pensavi che Kenny avesse due vite e l'hai fatto fuori. Come osi accusarmi? Io non farei mai una cosa del genere. Sono superiore a queste cose. Ah, mettete like a questo video perché a 16.000 mi piace Peratools pubblicherà subito un nuovo video. Amiche e amici, tenetevi pronti perché a maggio uscirà il mio nuovissimo libro Divertimenti! Correte a preordinarlo in libreria oppure online perché solo nella prima edizione ci saranno gli adesivi.